Un nuovo disservizio al passaggio a livello della tangenziale di Sondrio crea disagi alla viabilità e ritardi ai pendolari. È accaduto all'intersezione statale 38 Ferrovia. Stamattina un guasto alle sbarre ha costretto il convoglio partito da Tirano e diretto a Milano Centrale ad una sosta forzata di 15 minuti. All'origine anche questa volta il malfunzionamento delle sbarre, che secondo le segnalazioni dei viaggiatori per un guasto non si sarebbero abbassate al sopraggiungere del treno bloccando strade e ferrovia. Tutto sommato il disservizio è stato ripristinato velocemente dal personale di RFI. Il fatto è che questi problemi si verificano con troppa frequenza, alimentando l'esasperazione di chi paga regolarmente il biglietto ma poi si trova a fare i conti con un servizio non sempre all'altezza. Un problema ben noto in Valtellina che istituzioni RFI, sotto l'attenta regia del prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, stanno tentando di risolvere a tutela della pubblica incolumità, dando un'accelerata all'iter di smantellamento di sette passaggi a livello ritenuti tra i più pericolosi della tratta colico-Tirano. Rete Ferroviaria italiana entro fine anno stanzierà oltre 3 milioni di euro per le opere sostitutive da realizzare per la chiusura dei quattro passaggi a livello di Villa di Tirano e dei tre di Colorina, Forcola e Berbenno. I lavori curati dai comuni interessati consistono nella realizzazione di una pista ciclabile tra Colorina e Forcola, due sottopassi ciclopedonali, uno a Colorina e l'altro a Villa di Tirano in prossimità della stazione, oltre alla riqualificazione di alcuni tratti di raccordo tra la viabilità secondaria e la statale 38. Prossimo step, entro la prima metà di ottobre tra RFI e i quattro comuni coinvolti verranno sottoscritte le convenzioni attuative per la realizzazione delle opere con la successiva approvazione. Da qui la progettazione da parte dei comuni, la gara d'appalto e la realizzazione delle opere di smantellamento dei passaggi a livello indicativamente entro metà 2019. Interventi decisivi per incrementare i livelli di sicurezza sia dei pendolari sia degli automobilisti che non si troveranno più intrappolati nei passaggi a livello e che non rischieranno di attraversare i binari con le sbarre alzate mentre sopraggiunge il treno.